Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 21 marzo. Vediamo subito i temi della giornata. Ovviamente la cosa più importante della giornata è il tentato omicidio di 51 bambini ad opera di un senegalese molto arrabbiato, di origine senegalese, in realtà da Parigi era venuto in Italia una quindicina di anni fa e aveva ottenuto la cittadinanza italiana. Questo insomma solo per ricordare la vecchia polemica sullo Jussoli, gli immigrati, l'integrazione e tutte queste stronzate qua. Questo qui era arrabbiato sul fatto che gli italiani chiudessero i porti, in particolare una parte politica evidentemente e voleva ammazzare 51 bambini che stava trasformando nel suo pullman da crema, mi sembra, voleva farlo diventare una specie di proiettile a Linate. Non ci è riuscito e questo bisogna dirlo per tre motivi. La prima deriva dal fatto che le professoresse sono riuscite a non allacciare i polsi a tutti gli studenti. Il secondo motivo è che uno studente è riuscito a chiamare il 112. Il terzo motivo è che questi del 112, cioè i carabinieri del 112, non solo sono intervenuti prontamente ma come dei fenomeni. La differenza tra carabinieri e polizia italiana è, ad esempio, quello che è successo nei giorni scorsi ad Utrecht in cui la polizia era in sciopero mentre stavano sparando nel tram. E con un'altra piccola particolarità che forse non vi ricordate, che nelle prime ore e anche per un giorno intero si è detto che a Utrecht era una questione personale perché si fingeva che fosse un fatto terroristico. Era un fatto terroristico. Qui si finge, anche in questo caso, nella questione di Utrecht, con il buonismo tipico degli olandesi, ma di una certa parte della nostra sinistra italiana, di non dare il giusto nome alle cose giuste. Ieri c'era un senegalese incazzato con gli italiani, nonostante fosse italiano, avesse un lavoro in Italia, retribuito in Italia e il lavoro fosse anche evidentemente soddisfacente. Voleva comunque ammazzare delle persone. Questo semplicemente alla faccia di coloro che dicono che basta risolvere il problema regolarizzando, trovando un lavoro, integrando. Esiste un problema e se noi facciamo finta che questo problema non esiste mettiamo la testa sotto la sabbia. Allora, l'unica cosa che mi interessa è notare come Francesco Merlo oggi sul Repubblica per commentare questa vicenda, che io non capisco che cosa c'entri, inizia nelle prime cinque righe a parlare di questo Paolo, così soprannominato in italiana perché il nome mi sembra che sia OI, senegalese. Questo ragazzo italiano che ha provato a uccidere 51 persone di origine senegalese lo mette in relazione al suprematista bianco neozelandese che ha ammazzato 50 persone l'altro giorno a Church Christ in Nuova Zelanda. Come dire, pari e patta, insomma, ognuno è infelice a modo suo, direi che non è esattamente così. Nel giorno in cui Salvini viene salvato sul caso 18 e si commuove prima e dici posso dire ai miei figli di essere innocente? No, non può dire di essere innocente, secondo me è innocente. Il punto fondamentale è che bisogna essere corretti. Lui può dire che il Parlamento ha stabilito che lui non venisse processato, che è una cosa diversa. Io penso che sia innocente, ma il processo non c'è mai stato. Il processo non è stato fatto perché il Parlamento non l'ha permesso, esattamente come chiedevano craxi, democristiani, socialisti, liberali, repubblicani, alcuni comunisti del passato. Cioè non gli hanno fatto il processo. Io sono d'accordo! Cioè, sia chiaro, benissimo, ma non è stato definito innocente da un tribunale. E semplicemente si è sottratto al processo, per essere molto chiari su quello che è avvenuto l'altro giorno. Riguardo alla questione di Salvini è singolare come in realtà ci sia stato il supporto di Forza Italia e Fratelli d'Italia, perché se fosse stato con il Movimento 5 Stelle non avrebbe avuto l'autorizzazione a procedere, perché ci sono stati sette franchi tiratori al Senato e come sapete il Senato gode una maggioranza a questo governo molto risicata. Ma nel giorno in cui hanno salvato Salvini dal processo, i senatori, il capo politico, così si dice, del Movimento 5 Stelle, ha fottuto De Vito, che non è Danny l'attore, ma è il presidente della Giunta Capitolina, di cui parleremo tra poco. L'ha espulso via Facebook senza sapere né leggere né scrivere, come dice oggi una bellissima vignetta di Maddox sul foglio. È stato espulso senza leggere né scrivere. E poi quando un giornalista faceva nella vignetta notare a Di Maio che diceva questa frase, lui ha detto ti espello anche a te, nel senso che prende in giro l'atteggiamento dittatoriale di questo Movimento 5 Stelle. A me interessa poco l'atteggiamento dittatoriale perché ogni partito facesse a modo suo. A me interessa il nostro atteggiamento nei confronti dell'espulsione di questo De Vito. Sono cavoli del Movimento 5 Stelle, piacerà tanto a Travaglio questa cosa perché loro potranno dire che sono diversi dagli altri partiti perché loro quando si accorgono le spellono tutti quanti. Benissimo. Ma io invece sono andato a leggermi tutte le carte di oggi e questa cosa, se posso permettermi, ricordatevi il caso della modella Iva Iman che il Republicar ha definito quasi uccisa da Berlusconi e la stessa cosa ha fatto Travaglio, la modella che sarebbe morta addirittura per avvelenamento nucleare eccetera. Secondo la procura, ancora non è certo, per l'80% è un lupus, cioè morto di una malattia gravissima e molto difficile da riconoscere. Abbiamo fatto una settimana di congetture, i titoli, ecco i quattro metalli che hanno ucciso la modella Iman e testimone importantissima del processo Berlusconi, poi dopo è morta per morte naturale. Allora io vi dico su De Vito, state attenti ai titoli, state attenti alle virgolette, state attenti alle intercettazioni, state attenti alle carte della procura per cui è stato arrestato questo signore che è stato espulso dal Movimento 5 Stelle, perché quello che oggi sembra un criminale domani potrebbe essere, quell'intercettazione era sbagliata al virgolettato, non era riferita a lui, qual è il punto fondamentale di questa vicenda di Roma? Che lui avrebbe con il suo amico avvocato, attraverso il suo amico avvocato, preso delle parcelle da Parnasi, quindi il suo amico avvocato prendeva delle parcelle da Parnasi che voleva costruire lo stadio di Roma in maniera che si influenzasse la fattura dello stadio di Roma. Punto primo, Parnasi l'hanno arrestato. Punto secondo, De Vito non aveva nessun potere sullo stadio di Roma. Punto terzo, mi sembra che questo devono dimostrare che i soldi che sono andati a questo avvocato, sempre che siano andate, sempre che siano state fittizie quelle fatture, cioè semplicemente stecche, poi fossero ritornate al suo amico presidente della giunta capitolina. Puzza, non mi piace, è certamente la solita commistione della politica con gli affari, sono d'accordo con voi al 100%, ma quando io vedo che tra le carte dell'accusa c'è il fatto che lui si è visto con questo avvocato e sono andati in un concessionario auto per essere al sicuro, allora dico, vabbè, ma allora vale tutto. Quando vedo che sono andati in un ristorante di lusso, che era il matriciano a Roma, beh, allora mi viene veramente il sangue al cervello, vale tutto, cazzo. E i magistrati in questa maniera dell'accusa fanno il loro mestiere, ma poi bisogna provarle queste cose, bisogna vedere se sono arrivati i soldi, se c'è stata un'effettiva utilità. Oggi voglio dire, e poi io mi chiedo, voi che fate tanti moralisti, 5 stelle della minchia, e che avete subito espulso De Vito e potete dire giornali, noi li facciamo subito fuori, ma scusatemi, questo avrebbe preso dei soldi da Parnasi per far fare lo stadio e questo lo fa il presidente dell'assemblea capitolina che ha poteri esecutivi pari a zero? No, se la fesse avuti questi poteri li avrebbe fatti intermediando attraverso alcuni assessori. Quello all'urbanistica, intervistato oggi, dice ma io veramente non ho mai avuto rapporti con lui, non mi sembra che mi abbia mai influenzato operativamente a fare nulla di che. E poi avrebbe avuto rapporti con la Laggi, che invece l'ha scaricato subito, o col vice sindaco, o col porca miseria di funzionario. No, questo da presidente del Consiglio Comunale peccava le stecche per fare lo stadio non avendo nessun potere. Io non sto difendendo questo signore, non me ne fotte nulla di difendere un grillozzo che ha fatto il presidente dell'Aggiunta Capitolina e che peraltro, come ricordano tutti i giornali, quando ai tempi di Marino c'era un problema perché aveva comprato il vino con la carta di credito del comune, che nei fatti sembrerebbe molto meno grave di quello che ha fatto questo signore, andavano in comune con le arance perché lavoravano in galera. Pensate che io abbia pietà nei confronti di uno che augurava la galera nei confronti di Marino e che hanno fatto di onestà e onestà e tutte queste stronzate, perché ipocrite, perché non hanno applicato a se stessi la loro bandiera. No, non ho nessuna pietà, ma il punto è un altro, in che mondo politico vogliamo vivere. Abbiamo preso degli incapaci, senza arte né parte, li abbiamo messi a fare i nostri gestori della città più complicata d'Italia, gli hanno arrestato Marra, segretario personale, gli hanno arrestato per particolare, segretario, scusami, direttore personale, gli hanno arrestato Lanzalone che avevano messo a presidenza delle municipalizzate, l'avevano utilizzato per lo stadio, l'avevano utilizzato in altri paesi, amico di tutti quanti il vertice del Movimento 5 Stelle, gli arrestano il Presidente del Consiglio Comunale e noi siamo ancora qua che non capiamo che il problema non è onestà, 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 ma è rendere più semplici le procedure, ridurre il peso dello Stato e far sì che la gente possa fare tutto il possibile tranne quello che è esplicitamente vietato, ricetta di deregolamentazione liberale. Invece questi, con l'idea che lo Stato deve controllare tutto, financo le loro camere da letto, perché questo è il tema della Sarti e del Movimento 5 Stelle, ci troveremo a tanti casi di evito, non lo sto difendendo, sto semplicemente dicendo perché non adottiamo con lui la stessa garantismo che dovremo adottare con tutti gli altri, è tutta da scrivere questa pagina. Bellissima la storia di Luxottica, in cui il primo proprietario, come sapete al 70% era Leonardo del Vecchio, l'orfano che è riuscito a fare un gigante incredibile, l'ho reso ancora più grande fondendosi con la produttrice di lenti che si chiama Essilor francese, a sei mesi dalla fusione le cose non vanno. In un'intervista al Figaro, riportata oggi integralmente da Repubblica, ci dice che il manager francese fa tutto come se fosse sull'azienda e lui dice scusami, io fino a provare a controllare ciò di fatto della nuova azienda al 32%, voi avete il 4% della nuova azienda, i patti erano che si comandasse insieme, invece i francesi se ne sono fottuti, nominano dirigenti del Vecchio e fanno gli affari loro. Io non riesco a capire, standomi molto simpatico del Vecchio, ovviamente tutte le sue tesi secondo me sono ben condivisibili perché è un genio totale, però l'idea che si possa comandare in due in un'azienda, soprattutto mettendo del Vecchio, uno che dal zero ha fatto quella roba lì e i manager di Essilor, era secondo me una pia illusione che come tale si è dimostrata. Ultima cosa, Orban, il cattivissimo Orban, i popolari non riescono a espellerlo dal Partito Popolare Europeo, dice oggi qualcuno sul Corriere della Sera, un compromesso democristiano perché lui si autosospende e si deciderà in un comitato di saggi in cui c'è Pettinger, ci sono vari personaggi strani del Partito Popolare Europeo, decideranno Orban se cacciarlo o meno, ma sapete quando? In autunno, cioè fra sei mesi dopo le elezioni europee. Allora io mi chiedo se Orban è questo gigante dittatoriale contro la democrazia e la libertà, questo tipo il Partito Popolare ci sta pensando se un novello Hitler, un novello Mussolini in Europa, questo Orban, il Partito Popolare si sta portando una domanda cacciarlo o non cacciarlo, l'avrebbe dovuto cacciare immediatamente, anche perché le porte aperte i nazionalisti, i polacchi e i sovranisti italiani gliel'avevano già aperte. Pare che invece, complice anche in questo caso, non solo la Merkel ma anche Berlusconi, cioè i partiti popolari più importanti d'Europa se lo vogliono tenere dentro, mettiamoci dunque d'accordo se sono cattivoni oppure sono mali necessari. Direi che per oggi è tutto, tante cose sul sito di colaporo.it e condividete questa zuppa se vi piace. Ciao!